Il Comune varà una nuova misura destinata agli studenti universitari che scelgono Isernia come sede. Esatto, stiamo facendo il possibile per trasformare Isernia in una città a misura di giovani e di universitari. Sappiamo benissimo che gli universitari vanno a fronte a molte difficoltà, tra cui molto spesso quella relativa ai costi della vita in città. E Isernia, oltre ad avere dei costi di affitto molto bassi, e voglio dirlo soprattutto per gli studenti che pensano di venire da noi, ha varato questa nuova misura chiamata carta università. Di cosa si tratta? Si tratta semplicemente di una serie di servizi aggiuntivi per gli studenti e le studentesse che avranno sconti e offerte speciali da tutti quanti i gestori, i negozi, i servizi che decideranno di aderire. Come funzionerà? Semplicemente basterà andare sul sito del Comune di Isernia, scaricare il bando, l'avviso pubblico, compilarlo nelle sue parti e quindi inserire sia il nome del gestore sia il servizio che si vuole scontare e poi dal lato del Comune verrà creata appunto una lista di tutti quanti coloro che hanno deciso di aderire con gli sconti che faranno per i ragazzi universitari. I ragazzi dovranno poi a quel punto semplicemente presentarsi nel negozio, nella palestra di riferimento, presentare il proprio testerino universitario e avranno applicate delle scontistiche. Ogni esercente che deciderà di aderire alla carta avrà poi un bollino da poter esporre all'interno del proprio negozio così che i ragazzi sapranno quali di questi negozi appunto fanno sconti e offerte agli studenti. Allora intanto ringraziamo tutta l'amministrazione, in particolare il vice sindaco Federico Vinci per questa iniziativa che ha trovato pieno sostegno nella giunta e nella struttura comunale. Ringrazio in particolare il SUAP che insomma si è messo a disposizione con tutta la squadra per cercare di creare le condizioni ottimali affinché questa iniziativa potesse andare avanti. Chiariamo subito come avrà già detto Federica che il Comune in questo caso fa semplicemente tra virgolette da connettore, da facilitatore di un percorso, di un dialogo virtuoso che deve creare vantaggi reciproci, benefici tra le istituzioni, quindi Comune e anche Università, i commercianti, tutti gli esercenti che potranno aderire, tutte le attività commerciali interessate e gli studenti. Quindi i vantaggi possono essere tanti. Noi siamo convinti, abbiamo creduto fortemente in questa iniziativa perché è importante che tale iniziativa non rimangano isolate, estemporane, ma l'idea è proprio di mettere a rete e di creare un sistema. Noi siamo convinti che se creiamo un sistema virtuoso di questo sistema possono beneficiare tutti. La razio è duplice perché andiamo incontro così alle attività commerciali che vengono e sono varie le tipologie come abbiamo scritto nell'avviso pubblico, è un bando aperto, questo è fondamentale, la manifestazione di interesse può avvenire in qualsiasi momento, non ci sono termini. Questo è importante perché l'avviso è aperto e c'è totale autonomia degli esercenti nella tipologia di scontistica o di offerta promozionale da offrire agli studenti. Quindi non ci sono vincoli, ogni attività, a seconda anche del tipo di attività, si muoverà nella direzione che riterrà più opportuno. L'importante è però che ci sia una rete che dia vantaggi sia le attività commerciali, quindi al Comune di Sernia, a tutto il tessuto socio-economico e anche agli studenti proprio per rafforzare quella che è l'offerta formativa di tutte le università che sono presenti sul territorio, rafforzandola e completando quell'offerta formativa, creando delle condizioni migliori per gli studenti in modo tale da evitare che possano andare fuori in altre sedi universitarie e al contempo che possano iscriversi nuovi studenti e quindi creando condizioni che noi siamo convinti che questa città può sicuramente fornire. La prima fase che abbiamo già condotto anche qui al Comune, abbiamo incontrato diversi commercianti, diverse attività produttive del centro storico ma anche di tutta la città e di tutto il territorio provinciale e la prima risposta è stata molto positiva e quindi ne siamo contenti e ringraziamo tutti gli studenti ma anche le attività ovviamente produttive che aderiranno a questa iniziativa.